Un caro saluto da Mario Giuliacci, il tempo previsto per venerdì 17 gennaio. Sloggia l'anticiclone dell'Azorre è mandato via dall'arrivo di una perturbazione atlantica nell'arrivo della Francia, la quale già a fine giorno porterà delle piogge sulle regioni di nord-ovest. Ecco appunto il tempo previsto, dalla sera piogge riferite alla sera su Piemonte, ovest di Lombardia e Liguria, nevicate sulle Alpi centro-occidentale dal pomeriggio sera. Le massime saranno ancora al di sopra della media, intorno a 7-9 gradi sul nord Italia, 10-12 sulla regione centrale, 13-15 al sud e sulle isole maggiore. Debole gelata al mattino nelle zone interne del centro-nord. Bene, termino qui un caro saluto ancora da Mario Giuliacci. Vi ricordo di scaricare da Lompeggio al nostro sito la nostra app, che è molto semplice da usare.